Ciao, in questo video ti parlo della centrale A6F della NICE. È una vecchissima centrale che è utilizzata in tantissimi tipi di automazione NICE, come possono essere i Pluto, i Metro e alcuni impianti Mobi, che sono tra i tre prodotti più venduti della NICE. Come sempre, se il video ti piace e ti è stato utile puoi iscriverti al canale e mettere mi piace sotto al video. Allora, la centrale A6F è molto diffusa. Negli ultimi tempi, siamo nel gennaio 2020, NICE sta allungando sempre più le consegne del ricambio A6F come centrale, questo perché è estremamente vecchia e quindi anche la produzione è molto rallentata. In realtà è uscita da poco una nuova centrale della NICE che si chiama MC800, che attualmente viene venduta all'interno dei kit Wingo, Metro e via dicendo, con motore a 230V che è adatta a sostituire tutte le centrali precedenti della NICE e quindi anche la A6F. Quindi noi abbiamo pensato di produrre un kit in modo tale da poter riutilizzare anche i vecchi telecomandi NICE sostituendo la MC800 alla A6F. Ma perché dovresti sostituire la A6F con la MC800? Per tutta una serie di ragioni. Primo, fra tutti, è perché è una nuova centrale e quindi ti fa un aggiornamento hardware sull'impianto. Un po' come quando cambi il telefonino, anche le centrali dei cancelli hanno bisogno di un loro aggiornamento hardware. Due, perché questa nuova centrale ha una conformazione e una scocca che è il nuovo modello NICE, vale a dire centrale tutta quanta chiusa, non a vista, con trasformatore incorporato e molto protetta anche da eventuali animali che possono intrufolarsi all'interno della scatola. Un'altra motivazione è che le nuove centrali hanno un connettore per inserire un adattatore wifi che permette di aprire e chiudere il cancello a distanza con una comoda app che può funzionare sia su dispositivi Apple che su dispositivi Android. Installando questa scheda wifi tra le altre cose puoi entrare nel mondo core di NICE e quindi utilizzare i nuovi dispositivi che si chiamano Yubi per poter creare un sistema domodico. Con la stessa app puoi aprire il cancello, alzare le tapparelle, inserire e disinserire l'allarme e molte altre funzioni legate alla domodica. Un altro motivo è perché le nuove centrali possono montare il nuovo ricevitore bidirezionale che permette di sapere quando effettivamente il cancello è aperto o è chiuso con appositi telecomandi. Oppure possono montare un nuovo ricevitore con tecnologia Lora Long Range che ti permette di aprire con un telecomando apposito fino addirittura a un chilometro di distanza logicamente nominale. Ma cosa molto più importante è che installando la MC800 aggiorni l'impianto e lo prepari anche a un'eventuale sostituzione di operatori perché questa centrale va bene anche per tutti i futuri operatori NICE. Quindi se tu dovessi cambiare, attualmente magari hai i Pluto installati e devi cambiare poi successivamente e montare un altro tipo di operatore, sempre NICE elettromeccanico, della centrale rimarrà la stessa.